Questa trasparenza senza cittadini, a suo parere qual è il bonus? Credo che da un lato probabilmente in Italia manchi totalmente la cultura, cioè si pensa quasi che le istituzioni sono luoghi talmente lontani al cittadino che sono quasi inarrivabili, quindi nemmeno si pensa che c'è la possibilità invece di arrivare e di sapere. Quindi è mancata totalmente la comunicazione, è mancato totalmente un piano strategico per fare conoscere questo sistema e quando manca la conoscenza ovviamente diventa un tipo di sistema non utilizzato e quindi che secondo me crea adempimenti ma non raggiunge i suoi risultati. Grazie a tutti.